Allora, grave, gravissimo danno. Siamo atterrati su Genoscia, il nostro Blackbird è andato distrutto, quindi mi sa che da un'ora in avanti i poveri X-Men dovranno andare a giro a piedi o... Oddio, ho ammazzato Wolverine? O al massimo in bicicletta? Sì! 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 Una cosa che volevo fare nella vita! Cazzo! Sì! Schiaffeggiare Wolverine nella casa più bella del mondo, ora c'è. No! Ho sperato fino all'ultimo che mi facesse palpeggiare le tette di Psylocke, invece niente, no! Che cattiveria. Ed è il punto andato male. Queste sono le sentinelle create da Magneto. Questi sono i cugini di Wolverine che hanno artigli. Amico, vieni. E' bello perché dove non arriva con la spada ci mette... Ci mette il mitra, ci mette gli usi. Volete qualcosa di più? Eccomela! Boom! E siete morti. Dai, 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 dai. Fatemi sentire con urlate. E... Vaffanculo! Ti sento! Ti senti! Ti senti? Ti senti? Oh, man, zoom in a un tubo sull'ultimo! Ah, non è coso, l'amico di sinistro Blockbuster? Chi è? Ho qualcuno che ci assomiglia? Attento con chi la telecamera! Cancela! Ora, salvo! Ora, adesso ho... Oh, schiaffa, questo guy è big! Sì, sì No, no, l'ho preso Come si dice? Dalle mie parti, l'ho pelato Ma non lo prendo mai Ehi, player Ah, ti ricorda praticamente quando devi spendere i punti Quando c'hai abbastanza punti per comprare qualcosa Qualche arma, potenzialmente, cose da Ecco, sono forti sti struzzi, eh Allora, visto che lui me l'ha ricordato Io vado subito a vedere se c'è qualche potenziamento per la spada 120.000 No, voglio potenziamento per la spada Allora, cosa posso prendere? Nuova combo Q e Q QQQ Sì, QQQ va nel Q Allora, prendiamo questo E 55.000 100.000, 100.000 150.000 Porca puttana Quanto costa la roba Aggiunge 4 colpi Questo fa Aumenta il danno del 15% Eh sì, cazzo Eh sì, eh Andiamo Ups Ogni tanto perde qualche frame Non so se è una cosa normale Oddio, il mio computer è buono, eh Dai, dai, dai Dai, dai Che i nostri amici X-Men là giù stanno morendo Per colpa nostra, eh Tra l'altro, quindi C'è anche un po' da stazziti Tira la bomba, cazzo E cazzo E cazzo E cazzo Duri Sti cosi Dov'è? Ah, fa' il culo, vai Oh no, 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 no Sembra dei mostri di Duke Lunken Ah Cazzo, non ho più munizioni Trozzo Ah, non ho più munizioni, no, no, ce l'ho, ce l'ho Me l'ha data lui ma porca puttana finiamolo e vai anche questo è un bruttissimo ricordo Cable bellissimo chi è Cable premi spazio ma perché si picchiano che un tempo loro facevano squadra ve l'ho detto all'inizio della prima parte della serie del primo episodio facevano squadra lui e Cable nooo me l'hanno messo contro eh vedi vedi l'ha detto spettacolo spettacolo ok Trunks bellissimo è un coglionazzo si ma si è un coglione Deadpool che tutto si chiama Wade il vero nome di Deadpool tu mado no raga dieci dieci programmatori di questo cazzo di gioco dieci si è sparato per non sentirlo idiot meet me at the north end of the city what? chi è Cable ci ha un fattore degenerante è meglio di Wolverine andiamo andiamo donna nuda tette enormi ragazzi io voglio vedere i commenteri di questo gioco fatti da più di paio ci farà schiantare con tutte queste battute le sorrisate oh oh tiny ma dove ha messo la pistola? no bu 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 scusi eh ho piusato qualcosa si vede no no mi ha messo ah perché avrò finito le munizioni molto brevemente ai 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 eh ho finito le munizioni del mitra mi sa me madonna che sono duristiosi cazzo le munizioni del mitra ma che sono le munizioni del mitra? ma che è un mitra? che è un mitra? oh mitra guarda sto stronzo è bello che spara anche all'incontrario con le braccia avesse dietro in stile robocop sono fatti di boccia stiamo sempre un po' a corto di munizioni vabbè ovviamente il mitra ne butta fuori molti di più angor mo sono cazzi no ho due sono due non ho più bombe non ho più bombe questo è un casino questo è un casino la mia faccia da guerra quando fa questo BBB vuol dire che forse lo sto colpendo alla testa cazzo scappa Deadpool scappa e cazzo ste cose sono fortissime la 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 no 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 schifo curati curati daddy e ora ti ammazzo è bellissimo che dice anche bullets I need more bullets ho bisogno di più munizioni no c'erano munizioni nel mitra sti cazzoni con l'armatura sono potentissimi di obono poi si sale dove devo andare in qui